Qua è Helvetia? Ela simbolizza la Svizzera. Anus declara ela, coquil cusei federali funziona. All'exteriur dati presidentes e presidentes da stadi, primministras e primministras escizunt, rets e reginas. Ternus en Svizzera è quai tutt'auter. Ternus na dati bec in a singula scefa u in singul scef da stadi. Nossa regenza, pia il cusei federal, consista da set comembras e comembers che han tutti i mediems drehts. Tutti set han da dir e da decidir tutt'ina bler. Il Parlamento elegia una da queste set persone per i non scopresidenta u president della Confederazione. L'influenza dal presidi della Confederazione è limitada. L'uffizia ha consunt in caratter representativ, quai ha la jaut che ha scritto la Constituzione federale l'on 1848 voli uscìa. Per ells ne si bec venien d'un mondo ad assurdare la possanza governativa ad un'unica persona. C'è rola a, o sedentant, la presidenta u il president della Confederazione? In il cusei federal, maina ella o elle l'assessida. A medem temp, maina ella o elle irvinavant l'agent departament. La presidenta u il president della Confederazione representa la Svizzera, saia qua etter visitas all'exteriur utar occurrences en Svizzera. Chef da stadi della Svizzera resta dentant il cusei federal sco gremi. Quai vesen in Svizz bain acciagunda visitas ufficiales? C'è la Svizzera beneventa ufficial maina il chef d'instadi ester statten tar il riceviment tut il set cuseiliers federals sco er il cianzellier federal sin il terpun coccion. In pauli giur ha il presidi della Confederazione bain, dentant simplamain mo per un cert temp. On per on va il presidi alla prossima persona en il cusei federal. Buonemain uscìa sco ter la corsa da stafetta en il sport. In una corridura adurant in cert temp la bacetta è sordata quella al prossim corridur e quel sordat puspella bacetta al prossim ed uscìa vinavant. C'è l'equipo gudogna u perda dependa la finale da tutti giusto uscìa esi en il cusei federal.